Nasce IF Cycling, una guida per ciclo turistico, cartine, altimetrie e percorsi, compresi a sud e a nord della via Emilia nel territorio faentino e morese. Un nuovo strumento di promozione che unisce ambiente, sport, benessere e turismo su iniziativa della società IF. Si tratta di turismo sportivo, di turismo ciclistico, è una regione, è un territorio che si adatta ed è veramente ideale per tutti coloro che hanno la bicicletta. Fare turismo con una bicicletta, tra l'altro adesso è molto più facile perché ci sono i bike, le bici elettriche e quindi è un turismo aperto a tutti. Abbiamo delle strade, abbiamo dei siti straordinari e penso che la bicicletta sia uno degli strumenti ideali per aumentare il turismo e quindi in Romagna non c'è solo il mare ma c'è un'entroterra che è fantastico e farlo, visitarlo in bicicletta penso sia la cosa migliore. La bicicletta in Romagna si usa per andare a scuola, per andare a fare la spesa, per spostarsi, le città sono invase dalle biciclette e quindi non parliamo di bicicletta di tutti i giorni, parliamo di bicicletta da corso, di mountain bike, ma penso che lo spirito, l'anima sia ancora quella di una volta. La bicicletta in Romagna